... Nelle ore delle consultazioni di Mario Draghi, il governatore Luca Zaya rilancia l'autonomia. I vicentini puntano su Mario Draghi, la speranza per risolvere i problemi legati all'economia. Smantellato organizzazione criminale del Vicentino, il plauso del sindaco Francesco Rucco. Palazzo Tiene, il Consiglio Comunale sta con Rete Veneta, si faccia valere il diritto di prelazione. Crise economica e Covid, a Creazzo c'è un sindaco donna che ama i giovani e guarda il sociale. A Zegnano, identificato l'uomo che ha abbandonato due divani nel gretto del torrente in lineazione sul web. Buonasera, benvenuti al TG Vicenza. Apriamo il nostro telegiornale con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della regione del Veneto. Che ci dicono che in questo momento in Veneto ci sono 28.052 persone positive al coronavirus. I nuovi positivi sono 242, sono 315.083 le persone positive. Dall'inizio dell'emergenza scendiamo nella seconda parte della tabella per vedere la situazione degli ospedali. Scendono i dati anche nell'area ospedaliera, 1748 ricoverati in area non critica, solo 212 terapie intensive impegnate, rispettivamente 29 e 3 in meno rispetto a ieri. Purtroppo sono da segnalare anche 15 decessi. Andiamo allora a vedere la situazione dell'Ulss 8 Berica, dove l'epidemia ha portato all'effettuazione di 3.346 tamponi nelle ultime 24 ore, di cui 61 positivi, vale a dire l'1,8%. 3 purtroppo i decessi, 76 i guariti dell'ultima giornata. Andiamo a vedere ora invece quello che ha detto il presidente Luca Zaia su questa situazione dal punto di vista dell'emergenza coronavirus, ma anche sulla situazione politica nazionale. Inutile che ci riempiamo tanto la bocca di Stati Uniti, di Germania, di Svizzera, di Gran Bretagna e facciamo finta di non vedere che non sono paesi centralisti. Il centralismo è il Medioevo e l'autonomia, ve lo dico sempre, per noi è il rinascimento. Salvini sa benissimo che il tema dell'autonomia è un tema cogente. Gioca così la carta dell'autonomia il presidente Zaia, nelle ore delle consultazioni del premier incaricato Draghi alla Camera, la madre di tutte le battaglie, questo è il senso, non può rimanere fuori da un esecutivo nemmeno di emergenza nazionale. Ovvio che si troverà un dossier sicuro che è quello dell'autonomia e l'altro immediato che è quello del Covid. Due partite dell'arresto strettamente connesse, visto che la sanità è competenza concorrente tra Stato e Regioni, proprio quella sanità veneta pronta già a partire con la cura dei monoclonali dopo l'ok dell'AIFA presieduta dal trevigiano Palù. Adesso sono stati autorizzati, definiamoli in via compassionevole, in via emergenziale, ditelo come volete, ma la sanità del Veneto assolutamente utilizzerà questo nuovo strumento. Capite che nelle prime fasi vuol dire RSA, vuol dire il paziente che ti arriva in pronto soccorso con i sintomi, che puoi tentare di trattare con i monoclonali, poi sono i medici che decidono. Nuove frontiere della cura che intervengono in un contesto epidemiologico mutato in fretta, come dimostra il calo di contagi e terapie intensive. Vedete che il crollo non ha uguali, andate a guardarvi tutte le curve che volete, non lo trovate. Magari andate a intervistare tutti quei fenomeni che ci hanno rotto le palle a dicembre, gli dite se vi spiegano sta curva qua, però per iscritto. Sul fronte dei vaccini è sempre Zai a ribadire come non si debba rinunciare all'opportunità da qualunque paese arrivino, Russia o Cina che sia. Una macchina sanitaria con la Veneta che resta in movimento e che sarà testata a cortina con l'apertura dei mondiali di sci. Super tamponati tutti, i nostri atleti, verifiche, protocolli e tutto, però rendiamoci conto che anche quella è un'occasione, pur essendo a porte chiuse, mi metto nei panni dei cittadini che magari dicono che sono lì e possono esserci, magari vado a vedere la gara all'arrivo, evitiamo l'assembramento, evitiamo di andarci a respirare l'Aerosol. Nella crisi di governo dell'incarico affidato a Mario Draghi abbiamo parlato con i Vicentini. Sentite che cosa ci hanno detto. I draghi della politica. Per rimettere in piedi l'Italia serve una creatura mitico-leggendaria e se l'ex presidente della Banca Centrale Europea lo è di nome, adesso dovrà dimostrare di esserlo anche di fatto. Sì, perché non basterà l'autorevolezza del suo passato per riuscire a ridare un futuro al paese. Anche a Vicenza gli occhi sono puntati su di lui, a cui si chiede una rivoluzione che dovrà partire dagli usi e costumi dei politici. Innanzitutto dovrebbe essere vietato abusare dei social, meno chiacchiere virtuali e più fatti concreti. Che facesse di più e parlasse di meno, sicuramente. No, social. Il trend di quest'anno è la politica sui social, quindi ovviamente loro usano tutti i canali di marketing per comunicare alla gente, perché la gente sta col device in mano e guarda Instagram, guarda Facebook, eccetera, eccetera. E certo, i social non vanno demonizzati, ma forse i politici in questi ultimi anni ne hanno abusato. E allora si pubblichi pure, si posti, si cinguetti, ma non più di una volta al giorno e lontano dai pasti. E soprattutto il prossimo governo non tagli le risorse, perché in Italia le demoralizzanti diete poveri di sodio fanno deprimere l'economia. Questo governo dovrà essere bravo invece a investire, a ridare sale, l'infa alle attività produttive, a gestire le risorse del Recovery Fund con 209 miliardi di euro da seminare per far crescere un solido futuro. Il futuro dell'Italia è tutto su questi soldi che speriamo arrivino dall'Europa e quindi io vedo in Draghi la persona migliore che possa investire per un'Italia futura. La persona adatta sia per gli investimenti, per le infrastrutture, per tutte quelle cose che sono necessarie. Penso che sarà più di investimenti, me lo auguro sinceramente, perché visto da dove siamo venuti e visto anche quella che era la posizione di Draghi alla BCE, l'auspicio potrebbe essere quello. La domanda che faccio io a lei è, ci sarà un governo Draghi? Chissà, l'importante è che ci sia un governo che torni a dare risposte ai cittadini, alle attività produttive, alle categorie economiche. Non si può più aspettare. AAA cercasi Premier con urgenza. Non c'è bisogno di Draghi. Potrebbe bastare un semplice Mario. Ora vediamo la cronaca con una brillante operazione Interforce che ha smantellato un cartello criminale. Droga a chili 480, quelli sequestrati per un valore di 20 milioni di euro, importata dal Sud America, da un'organizzazione i cui gangli sono nel Vicentino, ma con origini per taluni calabresi. A disarticolare il sodalizio criminale ci ha pensato l'operazione Interforce e Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. 120 uomini impegnati in attività di intercettazione e decodificazione di messaggi criptati e pedinamenti. 12 le persone arrestate, di cui 8 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 1 con obbligo di dimore e 1 ultimo con obbligo di presentazione alla polizia. L'accusa per tutti è di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Non stiamo parlando di 2-3 bustine o di 10 uomini, ma stiamo parlando ovviamente di quantitativi di livello elevato che arrivavano in questa provincia. Ci troviamo secondo me di fronte a un gruppo di persone in grado, solidi evidentemente, con una solidità economica notevole, in grado di importare un quantitativo notevole di stupefacente. Una disarticolazione non solo dal punto di vista operativo, ma anche patrimoniale e finanziario, con il sequestro in conto di 250 mila euro in un appartamento a Milano. Sottraendone le disponibilità patrimoniali e finanziarie ne ha determinato un grossissimo vulnus operativo, sia sotto profilo di riciclare proprio il lecito profitto, sia per autofinanziarsi con i sodali. L'operazione affonda le sue radici nel sequestro iniziale a gennaio del 2017, dalla mezza tonnellata di cocaina da parte dell'autorità croate, droga in pacchetti da un chilo nascosti in una macchina operatrice destinata ad un'azienda di schio, in cui il prenditore verrà arrestato e condannato, ma che risulterà uno dei membri importanti dell'organizzazione. Con una consegna cosiddetta controllata all'imprenditore arrivano solo due chili di cocaina. Da qui iniziano le intercettazioni che portano ad altri imprenditori nel settore conciario, stabili aziende utilizzate per l'importazione della droga dal Sud America, ma se necessario anche dall'Olanda. Nell'organizzazione c'era chi era dedito alla pianificazione dell'importazione, veri e propri grossisti, chi al reperimento dei clienti, chi fungeva da intermediario tra la base dell'organizzazione e il vertice. A tirare le fila nel Vicentino, due soggetti di origini calabrese, referenti per diverse andrine locali, che mettevano i soldi. Su questo argomento ecco una dichiarazione del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. È una grande operazione perché dimostra un gioco di squadra tra forze dell'ordine, forze di polizia, polizia di Stato da un lato e guardia di finanza dall'altro. Quindi un plauso a loro per l'attività condotta d'indagine e per il sequestro di 450 chili di droga che erano destinate alle nostre strade, probabilmente anche ai nostri ragazzi, a chi ne fa utilizzo sul nostro territorio. Quindi ancora una volta un plauso a loro e un'azione di contrasto al fenomeno della criminalità comune, ma anche quella organizzata, che assolutamente rispetto alla quale non si deve abbassare la guardia. Noi nel nostro piccolo stiamo lavorando nei limiti delle nostre competenze con la polizia locale, anche nel contrasto al microspaccio. Continueremo a farlo, che quindi chiaramente rispetto ad operazioni del genere è importante evidenziare il lavoro di indagine svolto dalle forze dell'ordine. Questo ci permetterà quindi di lavorare ancora con più vigore sul territorio per contrastare il fenomeno della droga. Ora torniamo a parlare di Palazzo Tiene per quella che può essere definita a tutti gli effetti una Tiene novella. Ne abbiamo parlato con il Consiglio Comunale di Vicenza al quale abbiamo fatto una proposta. Messaggio ai naviganti. Se una cordata, una qualunque cordata di privati, volesse acquistare Palazzo Tiene, prima dovrà fare i conti con il Comune di Vicenza. E il Comune non è solo un ente, è innanzitutto una comunità, la comunità dei Vicentini, che nei decenni hanno raccolto i tesori artistici della collezione di Palazzo Tiene. Bisognerà fare i conti con la storia gloriosa della città del Palladio di cui Palazzo Tiene, patrimonio dell'UNESCO e parte integrante. Bisognerà fare i conti con l'opinione pubblica che noi mass media siamo chiamati a raccontare ogni giorno. Bisognerà spiegarlo ai cittadini, ai commercianti, a tutti coloro a cui noi di Rete Veneta abbiamo dato voce in questi anni e che hanno sempre chiesto che Palazzo Tiene venga restituito a Vicenza. Un risarcimento sacrosanto dopo il crack di BPV che ha lasciato profonde ferite economiche e sociali. Per questo noi di Rete Veneta abbiamo lanciato una proposta. Visto che il governo non ha mantenuto a oggi la promessa di acquisire al patrimonio dello Stato Palazzo Tiene per farne un museo aperto al pubblico, allora sia il Comune ad esercitare il diritto di prelazione. Ci rivolgiamo a tutti i presidenti dei gruppi consigliari. Ora tocca a voi. Accettate la proposta di Rete Veneta? Il Consiglio Comunale, così come è già avvenuto in passato, ritengo che debba esprimersi in maniera molto chiara e netta anche eventualmente su un diritto di prelazione da esercitarsi in caso di vendita. Senza dubbio la proposta di Rete Veneta è valida, nonché l'unica via percorribile. Dopo che il governo ha così miserabilmente tradito alla parola data la città di Vicenza, esiste una sola via. Che il Comune, in collaborazione magari anche con la Regione del Veneto, esercitano il diritto di prelazione. Noi Fratelli d'Italia siamo fortemente convinti di sostenere questa proposta di Rete Veneta per recuperare un patrimonio artistico, patrimonio dell'UNESCO. Corretto che quell'area lì rimanga la città di Vicenza, perché che questi qua vengono qua e vogliono portarci via, eventualmente anche la parte moderna di Palazzo Terno, la cosa non mi va tanto bene. Il Comune ha questa possibilità e quindi è giusto che faccia capire che è pronto a fare la sua parte, quindi esercitare il diritto di prelazione. Questo è un passaggio fondamentale che la legge consente e questo secondo me è assolutamente un passaggio da fare. Abbiamo sposato sin da subito la battaglia di Rete Veneta. Nel 2018 abbiamo presentato una mozione in Consiglio Comunale che è stata approvata all'unanimità. Abbiamo poi presentato varie interrogazioni per tenere vivo il tema. È fondamentale che l'amministrazione provi a esercitare il diritto di prelazione. Lo chiediamo come forze politiche di minoranza. È un dovere morale nei confronti della città e dei cittadini di Vicenza. Bisogna innanzitutto far valere un diritto di prelazione e in ogni caso considerare i vincoli che ci sono su questo palazzo perché non se ne può fare un uso così qualsivoglia. Andiamo ora a Creazzo per vedere come i sindaci stanno lavorando per rispondere alle esigenze della popolazione in questo periodo molto difficile. Un'emergenza senza precedenti, il Covid, che vede impegnati in prima linea ogni giorno i sindaci come Carmela Maresca, eletta a Creazzo il 26 maggio 2019, prima donna di indossare la fascia tricolore. Qui devo veramente ringraziare, colgo l'occasione per farlo, proprio tutti i cittadini di Creazzo che mi hanno sempre dimostrato grande stima e grande fiducia. Un patrimonio tutto al femminile che verrà investito in un settore ben preciso. Sul sociale intanto, perché io anche nel mio programma ho messo al centro dell'attenzione la persona. Crede fermamente nei giovani che trova scuola come insegnante ma anche per strada. Incontro i ragazzi, parlo con loro, comunico, partendo anche dall'uso e dal rispetto delle regole. Però io dico con i giovani bisogna dialogare. Un dialogo che diventa abbattimento delle barriere in un periodo di forte stress dal punto di vista dell'impegno sul piano sanitario. Sul piano sanitario io faccio parte da anni dell'esecutivo dell'Ulse dei sindaci e quindi c'è il rispetto rigoroso proprio del protocollo Covid. Con il contattare quasi quotidianamente le persone che rientrano nella lista dei positivi per accertarsi di eventuali bisogni. Ma non è tutto. Si presterà attenzione alle famiglie in difficoltà. Parlo a chi ha perso il lavoro, chi non può pagare l'affitto. A fine marzo scadrà chiaramente l'ammortizzatore sociale, la Cassa Integrazione. Quindi già ci sono richieste ai servizi sociali soprattutto di persone che non possono pagare l'affitto. Affitto e rette scolastiche ma soprattutto buoni. Spesa che saranno consegnati da protezione civile è che la stessa sindaco ha elogiato per l'ottimo lavoro svolto. Elogio che è andato anche alla squadra delle assistenti sociali. Ad Arzignano è stato pescato un furbetto dei rifiuti. L'inciviltà non si ferma nemmeno di fronte alle sanzioni. È capitato che qualcuno abbia abbandonato addirittura del mobilio e dei divani scaricandoli allegramente nel torrente Guà, nel territorio di Arzignano. Il fatto risale ancora a novembre dello scorso anno quando volontari erano andati a ripulire splendidi scenari del luogo assieme agli agenti di polizia locale presenti per un controllo. Intanto le fotografie del degrado avevano fatto il giro del web con l'indignazione di chi osservava lo scempio documentato che non riguardava soltanto sacchetti o bottiglie a terra. Le indagini erano partite e proprio quelle indagini hanno fatto luce sul responsabile. Si tratta di un 64enne di Montecchio Maggiore. Messo alle strette, l'uomo avrebbe confermato che il furgone bianco apparteneva a lui ma che quel giorno lo aveva prestato ad un amico per il trasloco. Si sono sviluppate le indagini della polizia locale che hanno portato alla fine ad una sanzione di 500 euro. Ovviamente il gesto è assolutamente da condannare. Dopo la nostra informazione andrà in onda Sport in Casa con Alex Iuliano che avrà come ospite Piercarlo Mantovani, presidente dell'Hockey Asiago per ripercorrere questa stagione e per lanciare un po' la finale che vedrà impegnati fra poco gli atleti dell'Hockey di Asiago. Questa sera il nostro direttore Luigi Baccialli avrà come ospiti Giulia Andrian, Paolo Benvenu, Renato Boraso, Vanessa Camani, Nicola Finco, Giovanni Battista, Mestriner, Francesco Pontelli. Questa era l'ultima notizia del Tg Vicenza. Grazie per essere stati con noi. Vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo. Bentrovati al meteo. Brusco stop all'inverno con l'anticiclone che comanda il tempo sul nostro territorio dove tra l'altro le temperature si porteranno su valori quasi primaverili. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà piuttosto nuvoloso, vedete con nubi basse e nebbie in pianura un po' per tutto l'arco della giornata e non si esclude anche una locale e leggera piovigine. Foschie anche fitte al mattino e soprattutto in serata. Clima decisamente più umite con valori fuori stagione, temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime comprese invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora a Vicenza in città ma anche in provincia. La situazione sarà tutto sommato la stessa. La giornata risulterà all'insegna di un tempo in prevalenza asciutto. Avremo però molte nubi con un cielo grigio e fosco e anche con qualche nebbia nelle ore più fredde. Infine temperature anche qui in aumento. Dal Meteo di Rete Veneta per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.